sono in otto al via dopo il ritiro di qualche minuto fa di Diana Sigi col numero uno due drop Vincenzo Bisogno col due di Bala ZS Ciro Perfetto col tre Dada Baba Luigi Starace col quattro Davis Rab Vincenzo D'Alessandro col sei Dorian Jet e Giuseppe Cirillo seconda fila per di Kiki Alor Mario Iaccarino otto Dama Bianca Parra Michele Immobile e col nove Danubio FG con Fabio Esposito allineamento che va ad ultimarsi tutti a rete quelli della prima fila bene anche quelli della seconda si entra in addirittura per il lancio galoppa il numero tre di Dada Baba c'è gran lotta per il comando con a largo di tutti il numero sei di Dorian Jet che cerca di scavalcare i cavalli all'interno rientra a tutti anche il due di Dibala FZ ma alla fine insiste Giuseppe Cirillo e al completamento della prima curva è il leader se ne vanno i duecento in quattordici e sei con Dorian Jet leader nei confronti di Dibala in terza posizione Demis Rab a precedere Dama Bianca Par che non ha trovato steccato ma viene subito via il favorito Demis Rab che va a chiedere strada dopo quattrocento metri in trenta e uno e Demis Rab attacca il numero sei di Dorian Jet sembra poter passare al completamento della seconda curva se ne vanno i seicento in quarantaquattro e sette Galatoni ha dovuto spingere un po' sull'acceleratore per essere al comando ma ci è riuscito dopo sei e cinquanta ed è il nuovo leader si libera subito dalla corda Dibala FZ che dopo un giro in un minuto e un decimo si trascina il numero otto Dama Bianca Par mentre in seconda posizione perde battute Dorian Jet gli altri ad inseguire cavalli sulla terza e penultima curva con il leader che sembra almeno per il momento controllare bene la situazione su Dibala e Dama Bianca Par perde battute come ho detto prima il sei di Dorian Jet si avvicina il buon bisogno con due drop cavalli alla fine della dirittura opposta con il leader Demis Rab che allunga abbastanza facilmente prende anche una lunghezza di margine su Dibala che si sbatte si trascina l'otto di Dama Bianca e mentre Demis Rab entra in retta d'arrivo con due tre di margine allunga il ex baffo d'oro Galatone a centocinquanta dal palo sembra non aver più problemi e viene a concludere nella maniera più semplice mentre una stratosferica Dama Bianca Par stampa sul palo un buon Dibala FZ per il quarto un ottimo due drop io ho due minuti sul mio cronometro uno e quindici il ragguaio ufficioso della prima corsa un cavallo volante con una guida esperta come quella di Vincenzo D'Alessandro Galatone che vengono a siglare la prima del convegno è tutto per questa corsa linea alla regia grazie a tutti grazie a tutti